Biscotti di frolla montata al cioccolato bianco. Vediamo insieme come preparare. Nella ciotola della planetaria inserite il burro morbido a pezzi. Per alleggerire il sapore potete fare metà margarina e metà burro. Aggiungete lo zucchero a velo e un pizzico di sale. Lavorate gli ingredienti con la frusta foglia. Otterrete una bella cremina. Aggiungiamo tutta la farina insieme alla vanillina e le uova sbattute. Lavorate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto bello morbido. Trasferite adesso l'impasto in una sacca per pasticceri. Quindi create i vostri biscottini in una teglia foderata da carta forno. Con il biscotto create una fossetta. Riposare due ore nel frigo e dopo siamo pronti per la cottura. 80 gradi per circa 12 massimo 15 minuti. Forno caldo statico. Potete vedere questo è il risultato finale. Devono essere così. Siamo pronti per la decorazione dei biscotti. Io questa volta utilizzo il cioccolato bianco. Aggiungiamo il cioccolato bianco in superficie e mettiamo qualche zuccherino colorato. Passate per metà gli altri biscotti. Se volete potete utilizzare anche cioccolato fondente o cioccolato al latte, secondo i vostri gusti. Asciugare i biscotti nel frigo per mezz'oretta. Ed eccoli pronti da gustare. Provateli!